Bentornati alla Casa di Mena. Una delle domande che molto spesso ci vengono poste è questa. Quando dobbiamo pagare il compenso all'agenzia? La risposta è molto semplice. Le competenze dell'agenzia vengono pagate direttamente alla conclusione dell'affare, ovvero il giorno del preliminare o in assenza di quest'ultimo direttamente allo nostro notario. Se volete maggiori informazioni sugli argomenti che stiamo trattando, contattateci qui.